Mi ricordo esattamente quanti anni fa, ma fu fatto un referendum per eliminare le rotaie del tram. Perché non è stato fatto un referendum se i cittadini bolognesi vogliono il tram oggi? Siamo nel 2019 e penso che ci siano altri mezzi per sostenere il trasporto urbano, non il tram, che porterà solo disagi, fallimento delle aziende e sicuramente dei grossi problemi di circolazione. Perché le macchine non è che si spostano, si fanno i debbi, le macchine rimangono. La vita, se uno da Porco Panigale deve andare a lavorare al Saffi, come fa? Dove va? Quindi sareste disposti a... Noi chiediamo esplicitamente un referendum per chiedere ai cittadini bolognesi se vogliono il tram. Questa è un'altra iniziativa che vorremmo proporre. Vorremmo proporre questa iniziativa perché nessuno sapeva del tram. Bologna lo vuole il tram e questa è la domanda che dobbiamo porci. Grazie.